E' tornata, ragazza. Allora, sei pronta? Rogue arriverà a momenti. Ok, ancora una volta. Vuoi solo parlare con Rogue di Smash, vero? E poi mi riberai il volante e tornerai al posto del passaggio. L'idea è quella. Non preoccuparti, sarò gentile. Potrebbe persino piacerti. In realtà, me ne sto già pensando. Ok, sono pronta. È l'ora, cazzo. Sembri diversa. Hai cambiato pettinatura? È bello essere di nuovo qui. Non sapevo che te ne fossi andata. Che cosa bevi? Tequila old-fashioned. Con su della birra e un po' di peperonci. Il Silverhand special. Era da un pezzo che non l'ordinavano. No, dammene un'altra. Arriva. Issama- No, dammene un'altra. No, dammene! No, dammene un'altra. Cassius Rider. Il nome ti dice niente? Il tizio tatuato. Come fai a conoscerlo? Abbiamo dei trascorsi. Dove lo trovo? A un salone a Watson, su Pershing Street. Allora quale scegli? Billy Goat o l'altro? Billy Goat. È più nel mio stile. Lo adorerà. Non ho dubbi. Jeremia Grayson. Dicono che fa l'operatore per Smasher. Ma io non ti ho detto niente. E tu? Chi sei? Sì. Diciamo che avevamo qualcosa in comune. Ruby Collins. L'ho passata io a Grayson. Tu puoi essermela fatta. Ehi! Ma che... Ehi, barista! Sì, man! Sì, man! Sì, man! Mas, rapido! Sì, man! Sì, man! Ho vinto! Sì, man! Sinistra o destra? Beh, diciamo che ho provato di meglio. Ehi! Sei Ruby? Che c'è? Hai sentito parlare di me? Andiamo fuori di qui. Ti racconto cosa ho sentito e tu mi mostrerai se ho ragione. Ma prima devo occuparmi di una cosa. Yo! Leva le tue cazzo di zampe da Ruby! Non vado a nessuna parte con te! Sta lavorando, capito? Anche voi! Tornate al lavoro! L'ammazzo questa puttana! Ehi! Ti aspetto fuori! Mi stavi aspettando? Ti va di andare a casa mia? Dove vado? Martin Street. Ma fa il giro lungo. Ti stanno bene! Hai da accendere? Oh mio Dio! Cazzo! Potevamo morire! Ruby! Forse chiamo... Chiamo... Ruby, concentrati. Devo parlare con Grayson. Salve, Night City! V. Sputti sempre sangue di più. Possiamo parlare di qualcos'altro, per favore? Certo. La prima volta che ti ho vista ho capito che c'era qualcosa di familiare in te. Bla bla, Johnny te l'ha detto. Non mi sembri sorpresa? Lo ero, ma ora non più. Probabilmente non ti ricordi. Ho dei flash qua e là. Non tutto, grazie a Dio. Mi ha chiamata di primo mattino. Ovviamente pensavo fossi tu. Ho pensato... Che carina! Peccato che sia uscita completamente di testa. E sei venuta a vedere di persona, eh? Curiosità morbosa. Mh-mh. E ho trovato Johnny Silverand. Ah... È una sensazione strana. Tu che sai di Johnny. Il tuo viso sta cambiando, sai? Sembri ancora V. Ma quel sorrisetto perfido... Lo riconoscerei ovunque. Come parla. Come si muove. Come fuma. Io non fumo. Lo so. Non potrei mai confondervi. Puoi dormire tranquilla. Ti ha parlato... Di Smasher? Sì. Non sapevo che fosse tornato a Night City. Johnny ha trovato il modo di vendicarsi. Aspetta. Grayson? Jeremy è Grayson. Lavora per Smasher. Johnny l'ha saputo da una spogliarellista, non chiedermi come. E boniche. Solo questo. Ad ogni modo vedrò cosa posso fare. Lo ammazziamo, quel figlio di puttana. Posso darti una mano? Nel tuo stato? Sei praticamente inutile. Ti contatto quando scopro qualcosa. Ok. Non posso credere che quel bastardo sia qui nella tua testa. Oh, cazzo. Mi hai fregato. Dovevi solo parlare con Rogue. Le ho parlato? E la spogliarellista? La rissa all'empathy? Il tatuaggio? Era tutto necessario. Dovevo offrire a Rogue qualcosa di reale, no? E boniche. Una pista su Grayson che dovrebbe condurci da Smasher. Una pista per una pista. Questo è reale. Reale quanto basta per Rogue. Smettila di piagnucolare e andiamocene. Smasher. 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 Che posto è questo? Un posto dove puoi vomitare sul tappeto senza problemi. Questo passa al convento. Allora, ti senti meglio? No. Nicola! Gusto l'amore! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.